Ciao ragazzi, ciao ragazzi, top! Benvenuti a una nuova tipologia di mukbang estremo, infatti questa è una colazione estrema perché mi mangerò tre brioche e berrò il succo alla pesca, non credo tutto, vediamo e niente, cominciamo, buon appetito, buona colazione, buono spuntino, buona cena, buon pranzo, buona merenda buono spuntino di mezzanotte, buon quel che vi pare ragazzi e grazie a tutti quanti che siamo arrivati a 72.300 iscritti belle e calde far avanti, come al bar non preoccupatevi che a fine maggio ci sarà, entro, la fine di maggio ci sarà la pesata ma che bontà queste brioche buonissima ah, c'è una bicocca delle tre marie buone guardate ottime domani mi sa che farò un get ready, così vi faccio dei caballi ricci li farò col diffusore ho quello in vlog, adesso vediamo e poi room tour e alle porte ragazzi questo è uno kibango estremo selvaggio, colazione selvaggia buonissimo succo bello fresco buonissimo 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 e passa tutto e passa tutto il rumore che sentite è perché ci sono le finestre chiuse, perché so entra il polline abbiamo messo il ventilatore a 1 al minimo puntato verso l'aria che così gira verso l'aria che così gira, non va diretto perché comunque è un po' prestino anche se fa caldo anche se a 1 fa freschino ragazzi ragazzi piantatevi dire che la nostra camera è una stalla e che puzza perché non venite qui a sentire, visto che dite cavolate viene pulita, ogni giorno viene pulita, ogni giorno viene areggiata e ho tantissimi profumatori d'ambiente che profumano il tutto, ma più che altro si sente molto il profumo dei detergenti che uso per pulire i mobili e quant'altro, quindi per cortesia astenetevi da dire ulteriori cavolate, grazie mi piace molto avete capire che la confettura è calda al punto giusto non è ustionante, è proprio appena sfornato ve le consiglio queste delle tre marie, ottime non ci provate neanche a dire che sono ingrassata perché non è vero ragazzi vi ricordo che poi entro a fine nel mese ci sarà la pesata ve lo ricordo più volte in questo video perché non si sa mai Altro giro di succo L'ultima brioche Buonissima Perfetta cottura Top del top del top Dello yeah ragazzi Buonissima Buonissima Queste tende sono veramente stupende Le adoro Adoro tantissimo Questa non sbriciola tanto Che buono La parte finale del cornetto Anzi del croissant Croissant All'albicocca Meraviglia Sì Ho la giusta carica Per fare tutti I lavori Delle pulizioni Della stanza Che bisogna fare Ogni giorno Perché la polvere Non si ferma mai La polvere In continuo Fermento La polvere È qualcosa di Fastidiosissimo E l'ha fatta Tutti i giorni Per forza Adesso poi Che sto riempiendo Il mobile Ragazzi Poi gioco Ottimo Questo piatto Poi gioco Qua Dopo aspiro Tutto Con il mio Dyson Super top Ecco Il succo Arriva qua Diciamo che ho bevuto Più di mezza bottiglia Direi che sono piena Sto praticamente esplodendo E niente ragazzi Io parlo sempre del Dyson Ma non perché mi voglio Vantare Perché L'ho comprato E voi non potete Permettervelo Ma assolutamente no Anche perché si può Questare a rate Insomma Ognuno lo può Comprare come vuole Noi abbiamo comprato Tutto Anche con l'asciugatrice Abbiamo fatto Comunque Ve l'avevo detto Che avevamo risparmiato I soldi Dei fuochi di artificio L'avremmo Rinvestiti In cose più importanti E infatti Così abbiamo fatto Io da tanto Che volevo il Dyson Non è che da Un giorno con l'altro Quindi Poco alla volta Risparmiando E poi abbiamo comprato Tutte le cose Che ci servono Che ci servivano Insomma E E nulla ragazzi Questo è quanto Parlo sempre del Dyson Appunto Perché Mi ci trovo Veramente Bene E quindi Prima avevamo Una spira polvere Che era Naccio Fega Che infatti Faceva poco Niente Sempre con la scopa Quindi Le pulizioni Le pulizioni Venivano benissimo Con questo Dyson Con questo Dyson Ragazzi Io Sono esaltata Perché Cavolo Cioè Aspira Qualsiasi cosa La polvere Te la toglie In una maniera Impressionante E E Sembra che Il giorno dopo Cioè Abituata a vederla Io il giorno dopo Quando pulivo E come se Non lo so Boh Aspira anche quella Nell'aria Non lo so ragazzi Sto delirando Adesso Comunque vabbè Dettagli Però Veramente Ve lo consiglio Se vi potete Permettere la spesa Se riuscite a comprarlo Ve lo consiglio Ottimo E Veramente Perché Semplifica In una maniera Incredibile I lavori Di routine Di polizia Della Della casa Perché comunque Puscia il pavimento Che ne ha meraviglia Toglie la polvere Sui La polvere Toglie la polvere Sui mobili In un batter d'occhio Cioè Aspira Anche L'impensabile E quindi Sono veramente Super Soddisfatta E contenta Niente È il mio gioiellino Il Dyson Bene ragazzi Spero che questo Mookbang Che comunque Quando faccio i sondaggi Vince sempre il Mookbang Vi sia piaciuto A turno Faccio un po' Tutti i video Il prossimo Il prossimo Penso che sia appunto Un get ready O un vlog E grazie ancora Dei 72.300 iscritti Un bacione Iscrivetevi anche al canale di Coppe Davide Chiara Channel Canale Chiara Dessandro Lo so che da mesi Non faccio i video Però ragazzi Mi sono imposta Di riprendere A farli Perché Perché è giusto Perché comunque Chi è iscritto al canale E aspetta video Non è giusto Che lo faccio aspettare Così tanto E quindi Riprenderemo anche lì Non so Non vi so dare una data precisa Però Niente E vi ricordo nuovamente Che Entro la fine di Maggio Mi peserò Un bacione E ci vediamo Alla prossima Ciao